Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo episodio, il primo della campagna di Blades of the Shogun, Shadow Tactics. In questo episodio Hayato ha il compito di uccidere gli ufficiali che stanno presidiando un carico di armi destinato ad un rivelle che vuole usurpare il trono dello Shogun. Quindi Mogun, il samurai, ha mandato in avanza scoperta il suo shinobi di fiducia per fare l'operazione sporca in silenzio e poi sparare un razzo che darà il segnale di attacco. Non è assolutamente semplice per essere del primo livello, l'ho già giocato per capire come muovermi, ma credo che mi toccherà ricaricare diverse volte. Il mio obiettivo è quello di fare un lavoro pulito e cercare di ricaricare ovviamente il meno possibile senza farmi mai vedere. Adesso vediamo un po' quello che possiamo combinare. Io credo... Allora partiamo, vediamo la mappa. Gli ufficiali sono dei pallini bianchi, quindi per arrivarci servirà un po' di tempo. Adesso al momento abbiamo soltanto due guardie. Allora faccio il primo salvataggio che non serve a molto però. Questa guardia, vedete, osserva il movimento del suo collega. Praticamente posso sfruttare soltanto questo cespuglio o... No, c'è un altro cespuglio in realtà che viene cercato dalla guardia. Potrei cercare di utilizzare lo shuriken per l'attacco a distanza e il ninja top per l'attacco a corta distanza. Ok, è il momento per entrare nel cespuglio. Ho un'idea. Eh, perfetto. Quindi sì, prima dovevo far fuori quello che osservava e poi quello che si muoveva. Ok, la prima operazione è stata pulita. Un po' di fortuna forse. Però intanto abbiamo recuperato lo shuriken, nascondiamo i cadaveri e andiamo avanti. Adesso non abbiamo molta scelta, dobbiamo semplicemente posizionarci... Ecco qui che incontriamo un nuovo personaggio. Qualcuno fa rumore? Uh, trappola assassina, ragazzi. Non male. Una trappola interessante. Raiato per una volta si sbaglia. Yuki non è una bambina, invece è un'assassina silenziosissima. È molto brava con le trappole. E adesso la vediamo subito in azione, perché starà dalla nostra parte. Ha cercato di rubare degli oggetti dai carri, le guardie volevano appenderle, ma... Adesso inizierà a stare con noi. Allora, vedete che può usare il coltello, la trappola per uccidere i nemici e il richiamo. Qui c'è ancora una guardia che la sta cercando. Vediamo se... Vedete, è molto rapida e non viene... E nessuno sente quello che fa. Ecco fatto. Primo nemico fatto fuori con il coltello. Non chiamarmi sensei, dice, ok? Questa è la situazione perfetta per una trappola, perché qui questa guardia non la troverà mai nessuno. Quindi piazziamo la trappola, utilizziamo il richiamo e poi buttiamoci dietro ai cespugli. Attenzione, in tutto questo il nostro shinobi sta solo osservando. Ed ecco il secondo morto di Yuki. Non è male la ragazza, cosa ne pensate? Non è affatto male. Ok, però adesso inizia ad arrivare la parte difficile della partita. Questa era sicuramente molto semplice. Ma adesso abbiamo una guardia di fronte a un civile. Perfetto. Quindi anche in questo caso la trappola penso che sia la soluzione ideale. Attenzione. Perfetto. È andato. Un'altra abilità di Yuki è che può trascinare i cadaveri senza alzarsi. Quindi non viene vista. Perfetto, direi di salvare. A questo punto nuova parte dello scenario. Il ponte è caduto, ci sono due civili che stanno lavorando. E abbiamo il nostro primo ufficiale, che è davanti a un toro. E questa è una cosa fantastica. E vi spiego anche il motivo. Portiamo i nostri uomini, non dovrebbero essere visti, no? Spero. A meno che il civile non alzi lo sguardo, ma per ora sta lavorando. Uh, ci ha mancato pochissimo. E' un bue, non è un toro, scusate. Ma adesso vi mostro che cosa intendo. Lanciamo il sasso sul toro. E continuiamo a salire. Il toro, il bue, ha dato un calcio così poderoso al primo ufficiale che l'ha fatto fuori. Adesso vedete che c'è una guardia che sta arrivando ad osservare cosa sta succedendo. Nessuno vede questa zona, vero? Perfetto. Perfetto, ragazzi. Ok, siamo riusciti a fare fuori due nemici con un colpo solo, con un bue solo, se vogliamo. Adesso iniziamo a portarci un po' più avanti. Benissimo. Quindi abbiamo fatto fuori anche una guardia che si era avvicinata e che non ci darà noi in futuro. Procediamo verso un nuovo scenario, salvataggio. Fatemi ricordare, abbiamo due civili. Abbiamo un civile e un cappello di paglia. Un ufficiale che è itinerante. Una guardia itinerante e un ufficiale statico. Va bene. Credo che la cosa migliore in questo caso sia quella di saltare e mettersi in posizione. Qui c'è una roccia che si può utilizzare per lanciarla contro il nemico. Cioè, farla rotturare contro il nemico. Ricordatevi che in Shadow Tactics è molto importante utilizzare tutti gli strumenti a disposizione. Intanto Yuki deve andare vicino al nostro benarmato Hayato. Ok, salviamo. Allora, il trucchetto potrebbe essere il seguente. Yuki scende. Richiama e poi sale. Sale senza farsi vedere. In questo caso, i due amici dovrebbero posizionarsi sotto il masso. che noi casualmente facciamo cadere e... Ecco fatto. In questo caso abbiamo fatto fuori il secondo ufficiale e... una guardia. Salviamo. Si possono uccidere anche normalmente con le trappole e i richiami, però il masso è lì e secondo me è veramente utile, quindi perché no? Allora, adesso l'obiettivo è quello di far fuori l'ufficiale itinerante, però probabilmente dovrei attaccarlo quando non viene... cioè, non è sotto il controllo di quest'alta guardia. Forse mi conviene prima uccidere questa guardia. Anzi, sicuramente senza il forse. Aspettiamo che si allontani. Perfetto. Nasconditi. E adesso, quando l'ufficiale arriverà... Dobbiamo trovare un modo di piazzare una trappola e... Vediamo se questa è una posizione buona. Dobbiamo attaccarlo prima che arrivi in posizione e si accorga che il suo collega è stato assassinato. Ok, bene. Se ho capito... Bene... È nelle nostre mani. Yes. Terzo ufficiale è andato. Recuperiamo la trappola... E nascondiamo il suo cadavere nei cespugli. Anche se non è necessario, però mi piace. Ok. 3 di 6 sono andati. Operazione pulitissima per ora. Salviamo di nuovo perché sono passati due minuti e non si sa mai. E adesso direi che la parte della mappa a sud è pulita. Rimangono intero ufficiali a nord. Bisogna attraversare il fiume. Uno degli obiettivi della missione è non utilizzare l'acqua. Però io l'acqua la voglio utilizzare perché è molto più semplice. Altrimenti devo stare molto attento a questi civili che potrebbero accorgersi di me. Non mi piace l'idea. Ok, quindi... Per utilizzare l'acqua direi Hayato e Yuki. Molla il cadaveri. Devono salire e scendere fino ad arrivare in questa zona. Ok, dall'altro lato vediamo un po'. Abbiamo una guardia che si muove, due guardie che parlano. E soprattutto c'è un carro che è utilizzabile. Vedete che ci sono due tronchi che possiamo distruggere. Quindi credo che sarà... Consigliabile nascondersi nelle... Nei cespugli. Seriamente? Uh, ci siamo andati molto vicini ragazzi. Bisogna fare attenzione. Beh, questa zona è coperta. Utilizziamo Yuki, dai. Questa volta. Quindi chiederemo a Yuki di utilizzare i pugnali. Una volta che Yuki avrà fatto fuori la guardia con il pugnale aspettiamo che questi due pardino e con un'azione congiunta andiamo a distruggere i blocchi che fermano questo carro di cannoni. E il carro dovrebbe travolgere il quarto ufficiale in modo letale. Perfetto. Anche in questo caso i pugnali hanno avuto... C'è mancato poco. C'è mancato poco che Yuki venisse sorpresa. Azione ombra Azione ombra Ok Adesso i nostri uomini sono in posizione pronti ad un'azione ombra quindi quando io premerò enter entrambi inizieranno cioè contemporaneamente a rompere questi questi due sostegni rimane poi un ufficiale che non dovrebbe essere difficile Ok diamo il segnale Accidenti Accidenti ragazzi F8 Eh no ricarico perché purtroppo l'operazione non è stata pulita ho utilizzato uno shuriken e si sono accorti che non è stato un incidente maledizione Peccato perché Peccato Quindi quando questo ufficiale si accorgerà e si avvicinerà ho un'idea Trappola con Aiato è un'ottima idea in realtà Certamente Nel senso che richiameremo il Attenzione speriamo che entri nella zona Adesso sta pensando l'ufficiale che cosa diavola è successo come è possibile che il carro sia caduto tragico incidente chi lo sa Dai avvicinati caspita Cosa verso di uccello Abbiamo nascosto il cadavere della guardia precedente quindi non dovrebbe vederlo Perfetto un ufficiale in meno Questa questo è quello che vi dico un lavoro pulito e non quello che ho fatto prima Ok fatemi dare un'occhiata abbiamo pulito anche la terza area qui ci sono soltanto dei feriti e dei civili sono nemici ma stanno dormendo in realtà qui c'è soltanto una guardia che a questo punto possiamo neutralizzare con una trappola Ok dietro alla dietro alla mucca Oh caspita errore mio Ok qui va bene Ok richiamiamolo non sente sto imbecille Ecco adesso ho sentito buttiamo yuki nell'acqua con una canna di bambù Perfetto Benissimo e adesso Oh non vede niente o si fa ammazzare Perfetto si è fatto ammazzare Possiamo lasciare qui il cadavere Adesso direi che la via è libera e dobbiamo far fuori l'ultimo gruppo C'è una guardia itinerante dovrebbe essere la più semplice da far fuori questa Perfetto Allora abbiamo dei cespugli che effettivamente ci danno un buon riparo Ferma cara No ho sbagliato Probabilmente la cosa migliore con yuki è quella di utilizzare una trappola Non ora Ah maledizione Maledizione ricarichiamo perché c'è saltata la copertura Ho sbagliato a piazzare la trappola così vicino al Devo piazzarla qui dietro Ok così per cui il richiamo non sarà affatto difficile Credo che nessuno possa vedere yuki Grazie La pazienza Ok Ok Benissimo Questa guardia adesso dietro ai sassi non verrà vista da nessuno Ma porco cane ho sbagliato Non verrà vista da nessuno Ok Questo dovrebbe essere il terzo caricamento giusto Quindi praticamente devo richiamare la guardia quando si trova più o meno a questa altezza della strada E devo piazzare la trappola Eh ma che caspita però Scusate Adesso vi chiedo scusa ma devo fare silenzio e concentrarmi Ecco ho fatto un errore veramente sciocco Allora anziché muovere le persone a caso le muoviamo quando abbiamo la linea pulita Vedete che qui c'è un ufficiale che va affatto bene quello che sta facendo Oppure potrei richiamarlo dentro i cespugli però qui appena fischio mi vede Quindi qui va la trappola Così dovrebbe funzionare Speriamo Il problema è che viene visto Il problema è che viene visto ragazzi Ucciderlo in piena strada con lo shuriken Vediamo Sì perché se l'ufficiale si leva dalle scatole Perfetto Ragazzi perfetto Quindi alla fine l'ipotesi migliora dovrebbe essere veloce e letale Ok Adesso abbiamo una guardia che ha tutto il controllo della zona bassa Una guardia che ha tutto il controllo della zona diciamo sud-est Due guardie che parlano tra loro Però questa vede quello che sta succedendo sulla costa e vede i tori con il contadino E poi abbiamo l'ufficiale che dobbiamo far fuori per ultimo Allora io sarei Io tenderei a dire che la prima guardia da far fuori sia questa Però la dobbiamo far dobbiamo mettere la trappola in questa zona Ah in questa zona non in questa zona purtroppo la trappola non funziona a meno che a questo punto la trappola la mettiamo sulla strada No 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 ci siamo Allora E se facessimo fuori prima l'ufficiale Vediamo Ah no un'idea potrebbe essere quella di utilizzare questi cespugli quindi forse Yuki è la è la soluzione quando l'emico sarà perfetto impegnato con il nostro ufficiale la Yuki uccide questo tipo e lo trascina qui dentro Vediamo se abbiamo abbastanza tempo non lo so non mi ricordo però si può tentare Ora No Ragazzi ho dato un ordine sbagliato Che ordine ho dato? Stiamo scherzando Ragazzi gli devo chiedere scusa ma Devo salvare quando sono nelle posizioni perché altrimenti poi mi viene l'ansia di dover ritornare dove ero prima in fretta e faccio cazzate e questo gioco non è assolutamente fatto per le scelte impazienti e stupide ma è fatto scelte lente ponderate e intelligenti esattamente il contrario di quello che ho fatto io ora e tra parentesi sta guardia porco cane grazie ora molto meglio ok 1 2 no non sono riuscito a contare quanti secondi ho a disposizione per uccidere la guardia nemica però devo ucciderla e iniziare a trascinarla questo deve essere la routine però in questo modo riusciamo ad uccidere tutti e sei gli ufficiali quindi la partita insomma questo mi fa piacere perché riesco ad arrivare al massimo del risultato in teoria bastava uccidere bastava uccidere soltanto 4 ok siamo pronti questo è il momento 3 2 1 adesso 3 2 1 mi hanno visto e quindi e quindi come si fa ho capito ho capito come si fa esatto però lo devo richiamare quando nessuno vede lo devo chiamare quando nessuno vede d'accordo oppure un'altra idea semplicemente metto yuki dietro al nemico appena l'ufficiale se ne va altrimenti verrai visto ah mi sono un deficiente però altrimenti verrai visto detto no e no continuo continuo a farmi beccare così va bene l'obiettivo era quello di fare una partita pulita con il minore numero di salvataggi possibili è chiaro che di salvataggi ne servono però vabbè preferisco avere la partita pulita senza che scatti alcuna allarme non voglio voglio veramente vincere senza nel migliore dei modi adesso aspettiamo f5 così poi non devo più ricaricare dal punto sbagliato in cui ero prima aspettiamo aspettiamo qui c'è un toro che potrebbe uccidere un civile perfetto ragazzi il segreto era quello di essere più vicini alla guardia tutto qua adesso oh oh qualcosa sta andando storto perché il nostro ufficiale dice è via da troppo tempo dove sta e adesso lo cerca se riuscisse a posizionarsi in questa bellissima striscia gli fa una sorpresa perché questo non vede nulla questi due non vedono nulla eh cerca dietro al monumento sì magari si è appisolato ahia adesso mi becca è il problema che qui verrai visto aspetta 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 yes non vengo visto perché chiaramente fantastico oh yeah perfetto ok ne rimangono due no io direi che questi due li lasciamo perdere perché non serve andiamo sul punto di ok tieni giù la testa dice Ayato boom fuoco d'artificio ed eccolo che arriva Mugen infatti le due guardie sono state fatte fuori da Mugen perfetto ragazzi abbiamo completato questa missione ci sono stati un po' di caricamenti alla fine la prima parte è stata pulitissima invece molto contento la parte finale potevo giocarla meglio ma adesso ho capito dove sbagliavo dovevo mettermi immediatamente nelle vicinanze della guardia per sfruttare tutti i secondi di distrazione dell'ufficiale però è andata bene dai non so quanti caricamenti sono stati meno di 10 spero se sono meno di 10 sono contento ma molti sono stati dovuti al fatto che mi sono distratto e mandavo avanti le persone senza controllare oh Mugen conosce Yuki adesso Yuki è veramente fantastica perché mi piace molto il suo modo di gioco quello di attirare i nemici in trappola di levarli dalla linea di visual degli altri nemici Mugen è quello che forse si addice meno a me perché ha questa possibilità di fare attacchi di gruppo si butta in mischia ma a me piacciono veramente le azioni super stealth super pulite va bene Mugen dà il benvenuto a Yuki nel team ma adesso ci guardiamo le statistiche allora 25 minuti ah 13 salvataggi maledizione ah no caricamenti 10 perfetto perfetto 13 salvataggi che ho fatto ma ho caricato 10 volte non ho dato nessun allarme questo grande più per me sono molto contento abbiamo ucciso 20 nemici su 27 nessuna ferita nessun civile morto nessun corpo scoperto Yuki ha ammazzato il maggior numero di persone e non è morto nessuno medaglia uccide due persone con una grossa rozza uccide due persone con un carro non uccidere nessun civile benissimo completa la missione in 5.30 minuti wow non penso che sarei capace cos'è stata la cosa che abbiamo usato di più il richiamo di Yuki 7 volte la trappola 6 in seconda posizione e l'ushuriki in terza l'attacco volante mi piace tantissimo veramente tantissimo va bene dai il 75% del tempo l'ho dedicato a Yuki e il 25% ad Aiato però le uccisioni siamo 7-8 bene amici e mi chiedetemi che cosa avete pensato di questo livello e noi ci vediamo probabilmente più avanti con un altro livello con il mio work through non dimenticate di mettere un pollice in su se avete apprezzato la serie a presto